Salve carismi, io sono Enrico Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono in compagnia di Pepios BELLA RAGA! Per fare questa bellissima challenge delle rischie e il gusto HOT PEPPER CHALLENGE! E' un video diverso dal solito perché questo video è una collaborazione con Schifidol e quindi siamo oggi qui per bestemmiare insieme perché sarà tutto piccantoso o almeno spero di no però succederà per forza. Inoltre abbiamo già fatto questa challenge nel canale di Pepios quindi mi raccomando andatela a vedere. Nick ha beccato cose brutte sempre! Eh sì, infatti, sto già con le lacrime. Andiamo a spiegarvi in cosa consiste questa challenge. Ci sarà una ruota che sarà la ruota della sorte che ci permetterà di beccare delle caramelle piccanti o buone. Perché? Possiamo beccare la caramella verde che è o alla mela oppure a lingua infuocata e sarebbe il primo livello di piccantezza delle caramelle. Esatto. Al secondo livello abbiamo la caramella gialla che può essere al limone o alla bomba calabrese perché quella parla da tutti così madame me. E poi abbiamo il terzo livello che sarebbe quello peggiore è la caramella rossa che può essere, se va bene, al gusto fragola oppure al peperoncino atomico. Mamma mia, è che è la marmellata e i frutti di bosco? Quindi non perdiamoci in chiacchiere, lasciate un like al video così siamo tutti felici e apriamo la confezione che ci riserverà tante sorprese. Mi sento come un bambino il giorno di Natale. Abbiamo la ruota che ci servirà a decidere quali caramelle dobbiamo mangiare e poi abbiamo l'oggetto più importante, ovvero le caramelle. Eccole qui. E quindi adesso facciamo un tattico sasso, carta e forbici per decidere chi girerà per primo la ruota. Vada, vada. Sasso, carta e forbici. Bella. Ciao ragazzi, il video è finito. Sasso, carta e forbici. E vai, inizia lui e quindi iniziamo. Vai carissimo, sei pronto? Gira la ruota, gira. Andate ragazzi, per favore, tifate per me. Vai. Verde! Verde! Sempre verde come gli alberi. Sempre verde o grifondoro? Non la faccio più la ciocchia. Vai. Come? Mela verde. È fortunatissimo, io già l'ho detto che sono io a perdere e invece lui dice no no, io mi becco quelle piccanti. Vabbè. Il nostro Nick, signori, il nostro Nick. Spero di essere fortunato. Tizione. Oh, è uscito. Aspetta, com'è che sta scritto? Rigira la ruota, mangiala tutta. Ma la ruota mi devo mangiare. Maestro, giri. Vado. Ti prego. Rosa. Giallo. Sì. Mi è capitata la caramella gialla, quindi scegliamo una randomissima, che più che un peperoncino sembra una banana. E adesso, aspetta che mi dimentico sempre, la caramella gialla può essere o al limone oppure alla bomba calabrese. Mamma mia. E chi è? Mamma mia. It's me, Mario. Dambua. Ok. Vai, mangiamola. Speriamo. Perché il piccante arriva dopo, ragazzi, se c'è. Non subito, perché ti tradisce. Piccante? Olè! Ragazzi, è piccantissimo. Signori, si gira di nuovo la ruota, per favore portatemi nuovamente fortuna. Vai. BAM! Ol' rosso, ragazzi, me lo sento. Giallo? Giallo. Pure tu giallo. Giallo. Ragazzi, ecco l'altra caramella, quella gialla che ha già provato Nick, senza prendere cinchiacchie. Minimo è il limone. È il limone? È il limone. Cioè, vedi che... Che? Aspetta, quale parolacce nemmeno si possono dire. Vedi che sedere? Vedi che sedere che hai? Cioè, solo io mi devo beccare le cose piccanti. E lui si deve prendere il limone, l'arangio, mandarina. Andiamo a girare la ruota. Io spero di qualcosa di rosso. Eh, vabbè, però può capitare alla fragola. Spero di no. Io voglio quella rossa, vai. Rosso! Il rosso! Però è veramente certo che trovo il piccante. Dai, dai, speriamo. Scegliamo questa, bella soletta, la soletta delle scarpe, questa qua. E niente, spero che sia alla fragola, davvero. Bomba, 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 bomba atomica. Nick sta cambiando l'espressione. Chissà com'è, chissà com'è, chissà com'è. È piccante. Sta male. Signori. Buonasera. Giallo, mi posso accontentare. Io mi vado a beccare questa, dai. Giallina, qui. Cioè, due volte si è beccata a quelle non piccanti. E che cazzo? Minima e buona Questa è piccante È piccante Ah finalmente morcie Senti il reggio Calabria qua Senti pure la Puglia È vero questa è la cosa calabrese ti sei beccato Terzo e ultimo round E siamo qui per girare la freccia E vedremo cosa mi capiterà Vai Verde Vabbè ragazzi talmente me l'ha occupata Che ora lui è verde a me è giallo No vabbè dai Mi può capitare sia quella buona che quella piccante No Vamos E quella buona Ecco Per una volta te l'ho conciso Sono felice Bene ragazzi la hot pepper challenge Finalmente termina qui Finalmente più per me che per lui Che ha trovato tutte quelle buone E io ho tutte quelle piccanti Tranne l'ultima per fortuna Quindi mi raccomando ragazzi passate anche sul suo canale Perché abbiamo fatto un altro video simile E quindi lasciate un like al video per supportare questo video Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E inoltre fatemi sapere nei commenti Se volete altre challenge insieme Così siamo felici tutti quanti E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.